Stop al turismo mordi e fuggi soprattutto in montagna. Il sindaco di Calalzo di Cadore lancia una proposta destinata a far discutere una tassa di pochi euro per i frequentatori occasionali delle aree picnic. Questo turismo predatorio alle nostre dolomiti non serve, dice Luca De Carlo, ci lascia solo i rifiuti del giorno dopo. Credo sia finalmente ora di interrogarci su che turismo vogliamo per il Cadore, se non sia giusto elaborare un sistema affinché i visitatori mordi e fuggi contribuiscano anche economicamente al miglioramento dell'ambiente e delle strutture di cui oggi approfittano senza dare nulla in cambio. Una provocazione quella del primo cittadino che sterna nei fatti il pensiero dei bellunesi contro i turisti della domenica. Arrivano al mattino, si fermano fino a sera, approfittano dei nostri punti fuoco e delle aree picnic, trovano tutto gratis e lasciano al territorio solo rifiuti al momento di andarsene. A chi solleva l'eccezione che in un momento di crisi una tassa di scopo non serve, De Carlo risponde che il Cadore non ha nemmeno bisogno di un turismo senza benefici e raffronta il turismo in montagna con quello sulle spiagge. Al mare si spendono decine di euro per ombrelloni e lettini, si paga il parcheggio e si va al bar. Tutto si lega al servizio che viene garantito, ribatte il presidente della provincia Gian Paolo Bottacin, che sulla proposta del sindaco di Calalzo resta perplesso. Sarebbe una sorta di dazio che altrove non è prevista e che potrebbe rivelarsi un boomerang per il nostro turismo, dice Bottacin. La pensano così anche alcuni sindaci della Gordino. Sarebbe anche opportuno, interessante, far pagare qualcosa per l'utilizzo delle aree da picnic che le amministrazioni mettono a disposizione del turista. Però non può essere l'offerta limitata a quello che abbiamo attualmente, un tavolo e una panca. Le nostre zone soffrono di una mancanza di ospitalità e quindi partire dal far pagare una tassa per le occupazioni di suolo, per il picnic, mi sembra un po', con tutto il rispetto per chi ha fatto la proposta, mi sembra un po' partire dal lato opposto del problema. Se dobbiamo incominciare già a pensare di far pagare tasse prima è sicuramente meglio darvi i servizi e poi ragionarsi sopra in futuro, vedendo anche gli sviluppi della situazione.